Esordisce sullo schermo nel film di Camillo Mastro 5 e bionda sotto chiave del 1939. Attore di primo o secondo piano nel 1942 e tra i protagonisti del film di Piero Ballerini La st fanciulla dell'altra arriva con Maria Mercader. Negli anni 50 per qualche anno recita per il cinema brasiliano. Dagli anni 60 continua la sua carriera in sceneggiati per la televisione italiana fino alla fine degli anni 70. L'ultimo film in cui appare è Ecco noi per esempio, di Sergio Corbucci del 1977. Nel 1979 interpreta il colonnello Rowan nello sceneggiato televisivo Morte a passo di Walzer con Gianni Garco.